Anno nuovo, criticità vecchie, con i prezzi del carburante schizzati a rialzo e con un campanello d'allarme, quello dell'ormai frequente superamento della soglia dei 2 euro al litro nel caso del servito, che preoccupa le famiglie italiane, già le prese con i rincari energetici. E il caro benzina agita e non poco il governo e la sua maggioranza alle prese con le nuove norme sulla trasparenza per bloccare le speculazioni. Speculazioni che sarebbero, secondo il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la Lega, causa dei rincari ai distributori di carburante, con parecchi furbetti che ora andranno, ci si augura, sanzionati e rimessi in riga, grazie ad un decreto ad hoc. Speculazioni che invece non sarebbero la motivazione principale degli aumenti, che, secondo Forza Italia, fanno capo alle accise, il cui taglio non è stato prorogato in manovra. Fatto sta che, da oggi, il monitoraggio dei prezzi non sarà più settimanale, ma giornaliero, e viene introdotto l'obbligo di esporre il prezzo alla pompa con sanzioni che potrebbero essere combinate dal Prefetto. Nelle nuove misure è poi previsto che, con un'altra norma, venga fissato un tetto agli aumenti del costo dei carburanti sulle autostrade. I gestori dovranno, fra l'altro, esporre dei cartelli indicando il prezzo medio nazionale stabilito dal Ministero dell'Ambiente. Due diverse ipotesi di reato potrebbero essere sanzionate, secondo il Codice Penale, dalla Guardia di Finanza. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio e manovre speculative su merci. L'attività di controllo sul territorio sarà strutturata e capillare, soprattutto in autostrada, con l'obiettivo di contribuire a calmierare gli aumenti. Il piano è già partito e vede impegnati oltre 660 reparti operativi delle Fiamme Gialle, il cui Comando Generale fa sapere, in una nota, che a partire dal marzo 2022, in concomitanza con l'aumento del prezzo del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti, ha fra l'altro dato disposizioni per implementare il sistema di vigilanza degli impianti di distribuzione stradale di carburante e dei depositi commerciali. Già nel corso del 2022 erano stati eseguiti 5.187 interventi della specie, anche grazie ad uno specifico piano d'azione su scala nazionale denominato prezzi carburanti, contestando 2.809 violazioni alla disciplina. E se non si può che essere d'accordo sul fatto che andare a lavorare non può e non deve essere un lusso, dall'altra parte rincara la dose l'associazione di consumatori Kodakons, secondo la quale i prezzi sarebbero dovuti scendere molto di più. Di parere opposto la Faibe Confesercenti, secondo cui i gestori sono parte l'ESA.